Una vittoria da squadra vera per il Trestina che soffre quando c'è da soffrire e colpisce quando c'è da colpire. A Casini la San Giovannese esce sconfitta di misura con Iacobelli che senza Fantoni, Calosi e Rossetti disegna un 4-2-3-1 con Cipriani in porta, Migliorini, Lorenzoni, Fanetti e Moruzzi in difesa, Divito e Baldesi in mediana con Boganini, Bellini e Bencini alle spalle di Vassallo in attacco. 8 minuti i toscani trovano il gol con Divito sul tiro di Bellini ma si alza la bagnerina dell'assistente Gallieni e guida a nulla per fuori gioco. Un minuto e Vassallo va giù in area con guida che fa cenno di rialzarsi al puntero toscano. Il Trestina schierato da Pierotti con un 4-3-3 con il classe 2003 Montanari fra i pali, con Vito, Fumanti, Cenerini e della Spoletina nel reparto arretrato. Xafagore Gramaccia a centrocampo con Kribek che se si è indicato a formare il tridente avanzato prende le misure e sfiora il gol al ventunesimo. Quando Kribek serve Gramaccia, imbucata per indicato ma Cipriani dice no. Dall'altra parte occhio a Vassallo che chiama in causa così Montanari sul ribaltamento di fronte. Cipriani non vuole essere da meno e al 35esimo si supera mettendo in angolo sull'incornata di Gramaccia servito da Kribek. Finale di tempo con Giallo. Prima Montanari a salvare su Boganini, poi Bencini conclude in porta, palla deviata sulla traversa che rimbalza a terra. La San Giovannese chiede il gol, guida, dà un'occhiata all'assistente Galiani e fischia due volte. Cipriani protesta e viene ammonito. Il tecnico Iacobelli si becca addirittura il rosso. Si va al riposo dunque sullo 0-0 e al rientro nella ripresa Vassallo di testa spreca sull'invito dalla bandierina di Bellini. Quando poi il Trestina regala una punizione a due in area alla Sangio c'è Kribek di indossare la corazza e immolarsi sulla sventola di Vassallo. Ancora Sangio con di Vito che colpisce il palo al minuto 68. Pierotti pesca allora in panchina, fuori Montanari dentro Mazzoni fra i pali con Lorenzini al posto di Della Spoletina ed ecco che Mazzoni salva subito il risultato su Boganini al 76esimo. Poi alla prima palla buona della ripresa per i bianconeri il gol che decide la gara. Con Vito si invola sulla destra, movimento in profondità di Sussi e Kribek da fuoriclasse della categoria qual è la mette nell'angolino. La Sangio recrimina, il Trestina continua a spingere in pieno recupero di Cato, c'entra il palo per un possibile 2-0 che oggettivamente sarebbe stato un passivo troppo pesante per i toscani. Direttore, è una Sangiovanese che mastica amaro oggi. Sì, mastica molto amaro perché ha fatto una buona partita contro una buona squadra in un ambiente sempre un po' particolare e chiaramente molto più amara perché comunque come dicevi te abbiamo fatto una buona partita. Sicuramente da una situazione del genere dovevamo trarre beneficio perché fa sempre be' sperare il fatto che comunque fuori casa fai vedere che hai un'impronta di squadra. Luca Pierotti come la festeggierà la prima vittoria da allenatore in Serie D? Come al solito, ma da casa adesso c'è un po' di rilassamento però è stata una partita veramente tosta perché al di là di tutto sembra strano ma io sono molto contento, io l'ho detto, però sono stati quattro giorni dopo Arezzo, un po' turbolenti, abbiamo anche in Coppa, abbiamo manifestato un nervosismo inutile, infatti abbiamo avuto un confronto. Ringrazio il Presse che è venuto a darci delle parole di conforto ieri che sono servite tantissimo. Questa è una vittoria da grande squadra, una squadra che sa soffrire, poi nella ripresa arriva anche un cambio, avvicinamento in porta, entra Mazzoni, subito gran parata e poi la squadra vera, la vera occasione della ripresa colpisce. Sì, ma non stavamo nelle migliori condizioni sia singolarmente sia anche come squadra, però posso far forza su un gruppo veramente eccezionale. Eccezionale, non gli faccio più tanti complimenti, se no sembra che sto sempre là, però lo sanno che il merito è loro, il merito di questa vittoria è loro, ringrazio, guarda, sono tutti, ho dei ragazzi eccezionali tipo I Susi che ha giocato con Dito Rotto, tipo Elia Mazzoni, professionista esemplare, quindi li ringrazio veramente tanto, il merito è tutto loro. Che partita c'è sabato, ce lo ricordi tu? No, mi ricordi. Il derby coltiferno è da preparare come? Si prepara da solo, lo sanno già, adesso ci guidiamo questi due giorni, è da 15 giorni che ci fermiamo un attimo, domani siamo fermi, riporsiamo, recuperiamo le energie e sabato ci sarà un'altra battaglia, come saranno tutte.